Io ritengo che la questione non si sia molto modificata, si continua a discutere sia per quanto riguarda la questione logistica della costruzione o non costruzione di un nuovo ospedale alla zona nord. Su questo io ho lasciato ampia disponibilità, ho detto che la zona nord innanzitutto ha bisogno di un ospedale che abbia un numero di posti letto adeguato, cioè intorno ai 140-200 posti letto, che sono disponibili a partecipare ad un processo di individuazione, anche se ci sono i soldi per costruire questo nuovo ospedale, del sito e della sede più opportuna che possa servire tutto questo bacino che va da San Vito passando per Carovegno, Stuni, San Michele, Cisternino, Fasano e anche Ceglie. Quindi questo c'è ampia disponibilità. Nello stesso tempo ho anche detto che per la consapevolezza che ho delle scarse risorse finanziarie disponibili, anzi dal punto di vista di cassa non ci sono soldi per costruire nuovi ospedali, e allora è opportuno anche valutare fino in fondo se non sia il caso di intervenire quindi con risorse notevolmente ridotte per completare l'iter e l'operazione di ampliamento, di ammodernamento, di costruzione che si sta facendo presso l'ospedale di Stuni in modo tale da verificare se questa struttura, questo nosocomio possa essere al servizio di questa zona nord della nostra provincia. In questa provincia è necessario che ci siano tre punti nascita perché non può essere altrimenti, né mi si può rispondere che ce ne sono già tre perché uno a Francavilla e due a Brindisi perché anche questo sarebbe il sintomo di una miopia dal punto di vista politico ed amministrativo. Non è concepibile che tutta una zona nord di circa 130-140 mila abitanti che in estate raddoppiano sia priva di una struttura e di un servizio indispensabile come quello del reparto materno infantile e che poi in una città ce ne sono addirittura due di cui uno privato. Quindi queste considerazioni vanno fatte, sono all'attenzione dell'assessorato regionale alla sanità, mi auguro che ci sia la saggezza, la serenità per assumere delle decisioni in sintonia con quelli che sono gli obiettivi strategici, i parametri medici e quelli ottimali del rapporto tra popolazione e posti letto, tra popolazione e aree che devono essere servite e necessarie e indispensabili strutture ospedaliere.